PEGI 18 Non ricordi di una vita prima dell'esplosione? C'è solo la metro, nient'altro! Ero una ragazzina quando cadeva il mondo. Avevi ragione, l'hai sempre avuta! La fuori non c'è solo la Russia, ma il mondo intero! Quelle cose esisteranno ancora. Vivo nella speranza. Lasciate che la vostra mano uccida i servi del nemico senza intucio o pietà! Vedi le persone con cui mi tocca lavorare qui? Degrado totale. Siamo noi il governo che voi altri meritate. Vi farò negare nel vostro stesso sangue! In fondo lo capisci anche tu. Non c'è altro modo. L'uomo è una bestia! Una bestia! Chi era quella gente che voleva ucciderci? Solo il più forte sopravviverà! Ma non vedi quello che stai facendo a mia figlia, tua moglie? Non salverai nessuno! Vivo nella speranza. Ma il futuro è ancora la cosa che temo di più. Gioca sulla console più potente nel mondo. L'uomo è un punto per guadagnia. Grazie.